Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale di Telegarda. Nella tarda mattinata di oggi il sindaco Alessandro Betta e l'assessore alle politiche della socialità e giovanili Silvia Girelli hanno ricevuto in municipio una delegazione del Presidio Orcense della Marcia delle Carrozzine, guidata dal professore Augusto Tamburini, uno dei promotori del gruppo europeo Autocoscienza Avanzata della Disabilità e preso in consegna il documento petizione con 11 richieste al governo in tema di sostegno a tutte le persone con disabilità e alle loro famiglie, assicurando l'adesione dell'amministrazione comunale allo spirito e ai contenuti generali. Sentiamo l'intervista ad Augusto Tamburini. Allora, oggi praticamente abbiamo avuto l'incontro con il sindaco di Arco, ingegnere Alessandro Betta, dove abbiamo esposto le problematiche della disabilità italiana unita, perché noi abbiamo fatto questa grossa manifestazione organizzandoci in rete, dove in questo momento 30 comuni d'Italia, grandi e piccoli, su un obiettivo comune, su una piattaforma comune, si sono ritrovati dopo sei mesi di attento costruttivo e aperto dibattito per portare a conoscenza del governo tramite due documenti, uno dei quali sono le raccomandazioni al governo della disabilità italiana unita e l'altro è la petizione con le dieci richieste sempre al governo italiano, che dovranno essere inoltrati dai sindaci d'Italia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Repubblica, dove abbiamo introdotto molte richieste da attuare per portare la disabilità italiana fuori da quel dimenticatoio, quella riserva indiana in cui si trova, perché la disabilità oggi in una società evoluta e civile chiede e conforta di poter partecipare in tutti i modi alla vita sociale.